Girl my body don't fly, don't run out of my mind, let it rain over me, this world when I'm rising so high, out of my mind, don't let it rain over me Ok, benvenuti ragazzi in questo nuovo episodio del mio Let's Play in Minecraft italiano Questo è il terzo episodio e visto che non avevo niente da fare mi sono fatto un attimo una passeggiatina sul mondo e ho notato cose che non ho scoperto Bene, eravamo nasti con la notte qua, ora avevo notato una cosa, prima cosa facciamoci un piccolo e una spada di legno Un piccolo e una spada di legno Ecco, c'è Di Pietro, scusate Ok, allora Ci sono cose che non abbiamo notato T E riguardante quel posto dove c'era molto carbone, no? Ce n'era altro, no, era con un'altra galleria Altra galleria Mi sembrava che stavi qua Facciamo un buccano Eccolo No? Ho notato Che qua c'era dell'altro carbone Cazzo Luce Ok Ok E poi qua sotto Come notiamo c'è un'altra caverna Ora io adesso devo prendere luce e tutta la corrente E in caso che trova strogherei ferro oppure oro o diamante Faccio anche un piccolo Se sentite delle luci ci sono i miei genitori Ah, ehm Ci dobbiamo prendere anche i 37 Bene Ehm 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 Così ci facciamo un bello piccolo Ehm Di ferro Ehm Ecco Ehm In caso ci Troverei qualcosa Ehm Se le porto E vi porto anche 20 torce E in caso mi servono E la terra Per uscire qua Va bene Allora avventuriamoci Ah Tutti gli altri piccoli Anche E meglio che me ne creo altri due Ehm Ecco E meglio che me ne creo altri due Se Dentro ho la cesta Ok Ehm Ecco Un po' Un po' E questo Un po' E così Questo Un po' Un po' Questo E questo Ok Ehm Possiamo andare Un po' E' acqua No? Se non mi sbaglio Se non mi sbaglio E' acqua Ok E' acqua Ah E' ancora in genova Pure i tungoli Vabbè ragazzi Noi siamo sotto terra Oh Non era un ronchi di niente C'era solo un pezzo Di carbonaco E basta Vabbò Ecco gli altri Non ero niente di che Una mini caverna Ehm Mini caverna Ehm Mini caverna Ehm Cazzo Ehm 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 Ecco il cazzo Ehm 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 Ora ragazzi Direi di forci un'armatura Abbiamo 39 pezzi Ehm Oppure No aspetta, aspetta meglio di me perchè quando trovo il diamante la faccio il diamante cosiamo qua e qua cosiamo, ritoccio e gli sticcoli 1,2,3,1,2,3 ok, adesso ho la spalla e ci do la mia mano e sta a votare oh e ragazzi scusate ma di quello che avevo notato l'altra volta dell'episodio precedente c'era come dire un'altra via oltre a quella che abbiamo esplorato oltre a quella che abbiamo esplorato perciò andiamo e è questa qua è trovata un'altra via perciò perciò ci sono già stata mi sembra ma se ci sono già stata allora perché non bisogna portare qui ecco mi stanno vabbè ragazzi vediamo all'inizio e raccogliamo quel che ci spetta perciò 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 ora Scusate ragazzi, eccomi che ho nato, era mia madre che avviene sempre al momento sbagliato. E scusatemi se avviene sempre, ma devo partire per un viaggio di due o tre giorni. Allora, a casa di chi? Di mia zia. Allora, abbastanza illuminata. Ferro, non l'avevo visto. Vi do di la verità, non l'avevo visto prima. Quanto bravo. Quero antes pra... Ok. Pienziciamo questo vero. C'è questo vero, ora. Ok. Grazie. 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 Grazie, come al solito, mia madre è ritornata. Ok, torniamo a noi qua. Oh, c'è una salita, salita. Grazie. C'è una discesa. Sporiamo questa parte che è buona. Qui il carbone. Qui il carbone, se lo carbone non fa ancora, manca un po' di ferro. Vabbè, giocano dieci pezzi. C'è carbone in buon tavolo. C'è carbone in buon tavolo. Ok, 60 pezzi di ferro. Ok, ragazzi. Preghiamo il carbone lì e andiamo. Ok, 60 pezzi di ferro. Ok, 60 pezzi di ferro. Ok, 60 pezzi di ferro. Ok, ragazzi, per inizio. Questa parte non l'abbiamo spolata. Ok, per loívico. Ho visto una cascata anche là. Ho vitezzo, una gaggascata. Eh... Ah, qua! Era il punto dove erano mandati... perché il secondo就... quando ci sono funghi c'è diamante vediamo a quanto stiamo ragazzi stiamo a meno 43 perciò non ci sono prendiamo questo carbone un pezzo siamo a 63 pezzi di carbone prendiamo anche stifo un geeky 1,2,3,4,5 adesso quanto ferro quanto ferro larghe e poi finito ho ancora 7 dolce un bel po' di ferro oh yeah oh yeah dai ma solo 4 pezzi di ferro che ragazzi credo che che cos'è qua ho finito credo sia meglio andare all'altra caverna se però non so come cazzo fare ecco sono ingenuo ragazzi sono ingenuo sono ingenuo sono ingenuo però sono scelto eh si grazie non non trovo sempre che che non che non 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 Grazie. C'è silenzio, ragazzi. Ok, finisciato di prendere questo carbonascio, possiamo ritornizzare all'esplorazionizza. Paura, non so se è un pesco. Ok, chi è? Chi è? No, ma dai, proprio dietro di me, ragazzi. Proprio dietro di me. Epp, rubiamoci, fottiamoci anche questo. troverò con il comando un'ultimo torgio si chiama qui e qui venisce con un bel pompeo ok ragazzi sta nevicando e ragazzi speriamo che non mi sia perso e da quest'altra parte si sta scegliendo con il viaggio ecco qua ok ragazzi vediamo un attimo a quanti minuti sta ok ragazzi finisco di fare qua e faccio vabbè metto a cuocere sto ferro e credo che da il ticamio 10 sia tutto al prossimo video e ci vediamo la prossima volta ad esplorare l'altra caverna ok votatevi, commentate, iscrivetevi e ciao 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 ecco 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 Grazie a tutti.